I versi degli animali in giapponese. Ciao, mi chiamo Sayaka e sono italo-giapponese. Vi sarà capitato di sentirne qualcuno degli anime se riguardate in giapponese con i sottotitoli? Vediamo quanto li conoscete partendo dai più facili. E da qui qui viene il nome di Pikachu. Qual è il mio più giudale di più? Ciao, ciao!